E' guarito l'ultimo paziente affetto da coronavirus del Policlinico di Bari. Un'ottima notizia che riguarda un 35enne ricoverato nel reparto malattie infettive dallo scorso 19 maggio, quando era arrivato presso la struttura sanitaria con lievi sintomi della malattia. Dopo tre settimane di terapia, l'uomo si è finalmente negativizzato ed è quindi stato dimesso. Ad oggi, dunque, il nosocomio può dichiararsi ufficialmente covid-free, non essendoci più al suo interno casi di positività al virus. Restano ricoverati nei reparti dedicati all'emergenza ancora 9 pazienti, ma tutti virologicamente guariti, 2 in rianimazione, pleomologia e medicina interna e 3 in malattie infettive. Si tratta comunque di soggetti fragili ed affetti da altre patologie. Da circa 25 giorni, nel presidio sanitario barese, non si registrano invece nuovi ricoveri di pazienti infetti. Nei mesi dell'emergenza, il covid hospital, allestito nel padiglione Asclepios, sono stati trattati complessivamente 369 casi. 85 di questi hanno reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. In occasione dell'ultima guarigione, il direttore generale del policlinico, Giovanni Migliore, ha simbolicamente rimosso il cartello ospedale covid affisso all'ingresso della struttura e dove sono stati anche apposte le firme di medici, infermieri ed operatori sanitari che sono stati in prima linea durante la pandemia. Siamo riusciti a fronteggiare la fase più critica grazie all'impegno di tutti e non abbiamo più pazienti positivi, anche se non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia, ha commentato il direttore generale Migliore. Intanto però non possiamo sottrarci al bisogno di sanità ordinario e quotidiano. Abbiamo già iniziato la riprogrammazione di tutte le attività per riabitare il padiglione Asclepios e far rientrare i reparti costretti al trasloco durante l'emergenza.